La prima rappresentazione nella storia dell'uomo di una danza è nella Grotta dei Cervi a Portobadisco. Nella Grotta dei Cervi i primi uomini che organizzano la civiltà danno l'idea del capo. La danza è riservata allo sciamano, lo sciamano è il capo della tribù, è il capo del villaggio. Lo sciamano danzante è visto di spalle, probabilmente sta guardando il sole, sta aiutando il sole a nascere. E' la prima occasione, il dialogo tra l'uomo e il sole con la musica, con una danza rituale che lo accompagna in questo suo percorso tra l'uomo e Dio. Amen and God. Amen. Amen. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.